Buonasera Vittoria Baldino, che è parlamentare e vice capogruppo di Momento 5 Stelle, buonasera e benvenuta. Vi avete fatto sentire, come sempre, una parte parziale, evidentemente decontestualizzata, di alcune intercettazioni. Quante volte, purtroppo, le intercettazioni decontestualizzate, ascoltate in maniera parziale, hanno trasmesso l'idea che poi è stata completamente smentita da ciò che poi è accaduto nelle fasi successive di dibattimento quando si è arrivato. Ma che Francesca Verdini sia la figlia di Denis Verdini è un fatto, questo nessuno lo può negare. Guardi, io qui vedo un clamoroso ritorno ad una stagione in cui ritorna in auge la questione morale in maniera prepotente, ritorna in auge una classe politica che si occupa soltanto di se stessa, lo abbiamo visto con questa finta riforma della giustizia, che in realtà non è una riforma della giustizia, è una riforma che modifica la giustizia per fare favore ai colletti bianchi. Guarda caso, noi, alcuni dei reati che sono contestati sono in qualche modo intaccati da questa riforma della giustizia. Per me Salvini è legato mani e piedi con questa vicenda, è coinvolto dal punto di vista familiare, è coinvolto dal punto di vista politico, l'avete detto il sottosegretario Freni, del suo partito, della Lega, è coinvolto dal punto di vista della competenza, perché stiamo parlando di affari del suo di Castero e stiamo parlando di risorse pubbliche, miliardi, decine, centinaia di miliardi di risorse pubbliche che vengono gestite in questo modo. Qui è evidente che c'è una commissione tra politica e affari e a me non serve, mi scusi, io sono garantista, ma a me non serve una sentenza per affermare che siamo di fronte ad una commissione tra politica e affari. Io credo che chiunque ascolti e legga le inchieste di Nello Trocchi e di Cuali Tiziani, grazie a quali oggi scopriamo queste cose, tutti possono affermare che siamo di fronte a questa commissione. Allora, di fronte a questo stato di cose, a queste inchieste che stiamo leggendo in questi giorni, qual è la risposta del governo? Di fronte ad una percezione sempre più grande della popolazione sul fatto che ormai la politica è diventata cinghia di trasmissione di interessi, di potentati economici, di cricche e di comitati d'affari. Qual è la risposta del governo? È quello di allentare le maglie e spuntare gli strumenti che la magistratura ha per colpire queste cose. Ma dal punto di vista del nostro approccio al tema, io non posso veramente sentir dire che la figlia di Verdini è la fidanzata di Matteo Salvini, perché altrimenti la fidanzata di Conte è la figlia di suo padre, perché altrimenti il figlio di Beppe Grillo è il figlio di Beppe Grillo, cioè lo capite o non lo capite che approcciare le questioni, mi faccia finire, Baldino mi faccia finire, perché lei si è definita garantita. Una garantista non dice che la figlia di Verdini è la fidanzata di Salvini, perché altrimenti deve dire che anche il figlio di Beppe Grillo è il figlio di Beppe Grillo, capite? Non c'entra assolutamente niente, non c'entra assolutamente niente. Stiamo parlando di un potenziale conflitto di interesse, scusate, ci sarà un riassunto anziché il letterale delle intercettazioni, quindi non è che il fatto non venga raccontato, ma viene raccontato in maniera più sommaria, perché per riassunto è il giornalista, questo è l'emendamento. Dice minore garanzia nei confronti sia di chi l'è, sia di chi l'è, sia di chi l'è, quindi quello che dice la senatrice Paita io lo condivido, ma non è che in questo modo venga sgomberato il campo dalla possibilità che venga sbattuta sui giornali la vita di una persona, lo si fa lo stesso allora. Qual è la verità? La verità è che si cela dietro questo intento, cioè quello di garantire in qualche modo la persona coinvolta, la verità, cioè il vero obiettivo qual è? Quello di proteggere in qualche modo chi gestisce il potere, perché queste nuove norme, queste modifiche non vanno a intervenire sul sistema giudiziario a favore del sistema giudiziario per efficientarlo, per fare in modo che succeda quello che ci chiede l'Europa, quello che ci chiedono gli investitori stranieri, che non vengono investiti in Italia perché il sistema giudiziario italiano è troppo lento, farraginoso, le udienze vengono rinviate, eccetera. Questa è una riforma della giustizia, non interviene per tutelare i cittadini utenti della giustizia, sono tutte norme che intervengono per spuntare le armi dei magistrati, per tappare la bocca, anche in contrasta i potenti e i giornalisti che vogliono raccontare quello che questo fanno. Ma come lei Formigli si è rivolto ai telespettatori a casa, anch'io chiedo ai telespettatori, ma voi credete che farsi ascoltare 5-6 intercettazioni estrapolate da due anni di intercettazione, condite anche da commenti che vanno in una direzione, sia questo il fare un'informazione completa quando si parla di elementi delicati come questioni giudiziarie, che non possono che essere affrontate con le garanzie degli imputati, dell'accusa, in aule di tribunale che ci mettono anni per decidere, veramente voi credete che far ascoltare 5 intercettazioni su due anni, il giornalista decide quello da far sentire e quello da non far sentire, lo estrapola e poi dico Baldino, tutto ciò per permettere a Baldino di dire a una persona che neanche è indagata come Salvini, che doveva essere richiamato alle sue responsabilità, andate da casa a digitare Grillo, onorato Toninelli, traffico di influenze, scoprirete che Grillo ha avuto le indagini chiuse per traffico di influenze perché chiamava Toninelli, ministro delle infrastrutture, chiedendo di intercedere per onorato, e ha avuto le indagini chiuse per traffico di influenze, e io sono garantista anche con Grillo, e io sono garantista, anche con Grillo sono garantista, allora smettetela di fare del giustizialismo e di ergervi a moralizzatori di altri, non è neanche indagato Salvini, voi avete nelle vostre fine colleghe che hanno due sentenze, passate due sentenze, primo e secondo grado di condanna, come la collega Pendino, e noi non ci permettiamo di puntare il dito contro nessuno. Noi crediamo che sia interesse dei cittadini italiani per il tramite del Parlamento, che è l'organo rappresentativo del popolo, che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti venga a rassicurare gli italiani che i soldi del PNRR vengano spesi bene, che gli appalti siano state denigrate senza averlo in motivo di ragione, che loro avranno i servizi che il PNRR gli deve offrire loro, noi questo vogliamo, non abbiamo chiesto a Salvini di andare a processo, di mandarlo al patibolo. Salvini è il ministro? È il ministro delle infrastrutture, onori e oneri, si deve assumere le responsabilità una volta tanto di venire in Parlamento e fare il suo lavoro, visto che abbiamo visto che ormai... Non mistificiamo, non mescoliamo e non facciamo nemmeno di tutto un erbo a un fascio sul tema per esempio delle lobby, perché le lobby hanno una visione molto anglosassone, le lobby lavorano benissimo quando sono professionali, quando anche in Italia lavorano con trasparenza, sono utili al legislatore a legisperare meglio e sono... Ah, meno male, perfino la Baldino... Non hanno regolamentato... Allora, non generalizziamo, perché anche se è una legge di sistema, ha bisogno di qualche legge, ma non mescoliamo... Calma, 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 vi prego, no, il pollaio no, vi prego. Allora... Noi abbiamo presentato una legge che regolamenta le lobby, che però si è arenata nella scorsa legislatura al Senato, l'avevamo approvata in prima lettura, ce lo chiedono le lobby, ce lo chiedono i rappresentanti di interessi, che non sono dei faccendieri, sono dei professionisti, sono loro stessi che ci chiedono di regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi. Quindi vorrei collegare... Scusate, però, il tema che il 95... Nello, il fatto che, Baldino, il 95% dei casi finisca in archiviazione, in assoluzione, ci deve far pensare che qualche cosa, qualche problema c'è, no? Su questo reato. Ci fa pensare sicuramente, se il dato è riferito all'ultimo anno, agli ultimi anni, soprattutto ci fa pensare che, così come è stato modificato, perché ha ragione il sindaco, i sindaci da anni chiedono di riformare l'abuso d'ufficio e noi l'abbiamo fatto. L'abuso d'ufficio è stato recentemente riformato, è stato eliminato totalmente il sindacato del giudice sugli atti discrezionali dei sindaci, tant'è vero che la maggior parte delle persone che hanno ricevuto una sentenza di condanna per abuso d'ufficio non sono sindaci, sono anche magistrati, sono altri funzionari pubblici che si sono macchiati, purtroppo, di un reato, che è un reato odioso e percepito come tale dai cittadini, perché non ci ricordiamo che c'è anche la vittima del reato. La vittima è un cittadino, un utente della pubblica amministrazione che ha subito un'ingiustizia per abuso di potere da parte di un pubblico funzionario. E' il caso di chi ha segnato la Casa Popolare, è il caso di una persona che non ha vinto un concorso pubblico perché c'era un altro raccomandato davanti a lui. E' il caso di... 9 condanne, 9 condanne, 9 condanne, 9 condanne. Nell'ultimo anno, Cattagliano, dico io, sono state 6 le condanne. Su 4.000 indagati, su 4.000, io qua davanti, su 4.000 indagate, 9 condanne. La nuova formulazione sta funzionando, quindi io dico diamo una mano ai sindaci, ma non diamo una mano ai sindaci andando a creare un altro problema che non riguarda solo i sindaci, diamo una mano ai sindaci alleggerendo le loro responsabilità, facendo quello che loro ci hanno chiesto, cioè dividendo la responsabilità politica e la responsabilità amministrazione. I numeri dell'abuso d'ufficio, 4.000 indagati, 9 condanne nel 2021, vuol dire che ci sono 3.991 persone che sono state indagate, che sono state sbattute sul giornale come indagate e troppo spesso l'opinione pubblica subito riconduce anche solo un avviso di indagine a una sentenza di condanna nell'opinione pubblica, con la vita rovinata, con problemi personali che hanno dovuto affrontare, 3.991 che non hanno neanche affrontato un processo nel 90% dei casi e sono stati assolti nel rimanente 9,9%. Ma questa è giustizia? Lo chiedo a casa, noi siamo contenti di un imputato. Ah, questa è giustizia, che 3.991 persone sono state sbattute in prima pagina perché ha indagate e poi non si è. Ha una bella idea lei di giustizia, lei ha un'idea giustizialista, che è un'altra cosa. Grazie ai nostri ospiti.